Alleluia, gloria al Signore. Vogliamo leggere insieme nella prima epistola di Paolo e Corinzi, capitolo 15. Prima epistola di Paolo e Corinzi, capitolo 15, leggiamo il verso 33 e il verso 34. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ridiventiate sobri per davvero e non peccate. Perché alcuni non hanno conoscenza di Dio, lo dico a vostra vergogna. Vogliamo ringraziarti, Signore, per la Tua divina parola e ti chiediamo che Tu la benedica al nostro cuore ancora questa sera. Certamente lo farai perché Tu sei un Dio fedele. Ti rendiamo l'odo, l'onore e gloria nel nome di Gesù, Tuo figliuolo, il benedetto in eterno. Accomodatevi. Il verso che abbiamo letto, soprattutto il verso 33, se ci fate caso, è inserito in un discorso che l'Apostolo Paolo fa riguardo a un tema specifico, che era il tema, è il tema della risurrezione di Cristo. L'Apostolo Paolo, scrivendo a questi credenti di Corinto, sta affrontando proprio in questa epistola quello che era una, possiamo dire, una deviazione, una idea errata, sbagliata, riguardo al punto la risurrezione. Alcuni a Corinto non credevano che ci fosse la risurrezione, infatti erano proprio increduli. E la cosa interessante che possiamo notare proprio riguardo a questo verso, a queste parole, che sono messe lì quasi come una parentesi, quasi una parentesi. Se voi ci fate caso, sono quasi una citazione, infatti l'Apostolo Paolo cita un'espressione di un poeta greco. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, era un'espressione di un poeta greco chiamato Menandro. Paolo, ma noi crediamo l'ospito santo, usa l'Apostolo Paolo nell'usare anche questa citazione per farci comprendere a noi questa sera che il problema della incredulità dei credenti di Corinto riguardo alla risurrezione, il problema anche dell'idea dottinalmente sbagliata che alcuni avevano, che questa Chiesa aveva sempre riguardo alla risurrezione, era conseguenza delle cattive compagnie. Perché è proprio messa lì come quasi inciso, quasi a voler dare spiegazione, a voler far capire qual era la causa di quella incredulità e di quell'idea appunto sbagliata riguardo la risurrezione. Non vi ingannate, fateci caso, a casa leggetelo e scoprite proprio che è messa lì, non tanto così, quasi come se a un certo punto l'Apostolo Paolo improvvisamente gli viene in mente questa citazione di questo poeta e la dice, la butta lì, non è buttata lì, ma ci fa capire qual erano i motivi, qual era il motivo, ripeto, della incredulità dei Corinti riguardo la risurrezione e riguardo anche quell'idea anche sbagliata che c'era in questa chiesa riguardo a questo argomento. La causa era le cattive compagnie, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. La scrittura ci fa comprendere che in base alla compagnia che uno sceglie, soprattutto il credente nel fare la scelta delle sue compagnie, questo manifesta più o meno la sua testimonianza. Perché sapete, la testimonianza più che espressa dalle parole, è espressa da comportamenti, da azioni, da scelte che noi facciamo. L'Apostolo, lo scrittore del Salmo, 50, al verso 16, dice così, Ma Dio dice all'empio, e prima parla del credente, prima parla appunto di sacrifici che Dio gradisce, e poi al verso 16 dice, ma Dio dice all'empio, perché vai elencando le mie leggi e hai sempre sulle labbra il mio patto, tu che detesti la disciplina e ti getti dietro alle spalle le mie parole, se vedi un ladro ti diletti nella sua compagnia e ti fai compagno degli adulteri. Non serve a niente avere sulle labbra il patto di Dio, non serve a niente elencare le sue leggi, se poi uno sceglie cattive compagnie. Questa scelta determina appunto la sua, manifesta la sua condizione spirituale. Il vero credente che teme il Signore non sceglie le cattive compagnie. Beato l'uomo, dice il salmista a Salmo 1, il cui diletto è nella legge dell'Eterno. Dice qui il salmista perché l'uomo che sceglie la legge dell'Eterno, l'uomo che teme il Signore e di conseguenza desidera fare a sua volontà, mai e poi mai sceglierà cattive compagnie. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Chi sceglie il Signore non può scegliere cattive compagnie, ma soprattutto semmai sceglie la compagnia di Dio. Amen. Noi siamo infatti il Tempio dell'Iddio vivente, come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed esseranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò e sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Alleluia. Cattive compagnie. Ma a cosa si riferisce questo aggettivo cattivo? Perché a volte noi pensiamo che cattive compagnie si debba soltanto intendere i ladri, gli assassini, quelli che si comportano in modo, diciamo, si abbietto, no? Quelle sono le cattive compagnie. Però, fratelli e sorelle, per il credente, per chi vuole fare la volontà di Dio, da quello che almeno possiamo comprendere biblicamente, cattivo, deve intendersi cattivo, tutto quello che lo allontana dal Signore. Siamo d'accordo su questo? Tutto quello che in qualche modo perché a volte apparentemente vi sono cose che nell'apparenza, ecco perché Gesù diceva a chi lo ascoltava non giudicate dall'apparenza, ma giudicate secondo giudizio. L'Apostolo Paolo scrivendo anche Corinze capitolo 6, verso 12, dice ogni cosa mi è lecita ma non tutto mi è utile. ogni cosa mi è lecita ma non tutto mi edifica. Quindi, cattivo per il credente non è quello che magari si intende anche comunemente nel mondo, ma cattivo per me, per me che voglio fare la volontà di Dio, potrebbe essere una cosa che in sé è lecita ma che in realtà non mi è utile spiritualmente, non mi edifica spiritualmente. non mi fa del bene spiritualmente. Quello per me è cattivo. Siamo d'accordo? Ma non ancora, dice l'Apostolo, ogni cosa mi è lecita ma non tutto mi è utile e non mi farò dominare da cosa alcuna. Per me è cattivo quello che prende il controllo della mia mente, che prende il controllo del mio cuore e mi allontana dal Signore. Quello è cattivo per me. Per me che voglio fare la volontà di Dio. E allora vedete come le cose cominciano a prendere un significato appropriato. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. e questa sera vogliamo considerare alcuni tipi di cattive compagnie. Ci sono compagnie cattive di tipo sentimentale. pensiamo a Dacab che sposa Isabel. Pensiamo a Sansone che sta con Dalila. Pensiamo a Nania e Safira. Pensiamo a Salomone che con tutta la sua sapienza, intelligenza, quando appunto prese delle mogli che erano idolate, che provenivano appunto da popoli pagani, dice la scrittura, quelle mogli gli sviarono il cuore. Gli sviarono il cuore. Le cattive compagnie possono essere innanzitutto di tipo sentimentale. Oh, quanto è triste quando appunto si fa una scelta sbagliata in questo senso. Quando appunto, o purtroppo in qualche modo il marito o la moglie che poi ci innamoriamo, insomma, è quella sbagliata, quello sbagliato. Cattiva compagnia. Pensiamo un po', ripeto, ad Acab che si sposò Isabel. Sapete, dal punto di vista coniugale i due vanno d'accordo. Perché molte volte noi pensiamo che fino a quando vanno d'accordo, se uno va d'accordo va bene. No, ma il problema è noi come credenti vogliamo comprendere ciò che fa per il nostro bene spirituale. Ecco perché, fratelli e sorelle, vogliamo pregare che Dio ci dia discernimento. Amen. E le cattive compagnie, dal punto di vista sentimentale, io mi rivolgo ai giovani, cari giovani, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Amen. Quindi penso che sia oppure opportuno pregare il Signore. Signore, fa che io mi accompagni con quanti e con chi ti vuole servire. Perché basta poco, basta una scelta sbagliata, basta veramente fare delle scelte che non sono della volontà di Dio e questo molte volte pensiamo ad Acab perché, ripeto, che non era proprio così cattivo Acab. Dio, in qualche modo, quando quest'uomo si umilia, insomma, Dio gli ascolta la preghiera, gli manda l'aiuto, ma aveva una moglie, che Dio ci scansi e Dio ci liberi. Amen. Pensiamo a Sansone, che era un uomo ripieno di spirito santo. Amen. Pensiamo, ripeto, a Salomone, ma anche Rania e Safira. Io non so chi di due abbia impunzato l'altro, ma di sicuro, insomma, era una bella coppia, una bella coppia, ma le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Le cattive compagnie possono essere, ripeto, di tipo sentimentale, come gli esempi che abbiamo visto, ma possono anche essere di tipo amicale, cioè l'amicizia. Pensiamo a Giosafat che si unisce ad Acab. Giosafat era un buon re, Giosafat era un bravo re, Giosafat amava il Signore, però aveva questo purtroppo difetto, faceva alleanza, amicizia, con chi invece di Dio non gli importava proprio niente. E questo non l'aiutò ospitalmente molte volte, anzi, una volta rischiò di perdere la vita a Giosafat. Vi ricordate? Ma non male che Dio è buono. Ma non male che Dio è buono. E molte volte la sua misericordia ci prende per i capelli chi ce l'ha e lo salva. Amen? Era una battuta, eh? Per chi ce l'ha? Perché io ne ho sempre di meno ultimamente. Ma Dio riesce a salvarci anche con pochi capelli. Quando lo invochiamo lo cerchiamo. Pensiamo a Giosafat, e ripeto infatti poi il profeta glielo dirà Giosafat poi non impara la lezione e si allega col figlio che era peggio del padre e fa amicizia, fa addirittura un accordo economico con Acas organizza quella grande flotta e quel profeta che poi Dio disperderà e quel profeta che lo andrà a trovare gli dirà ma insomma tu fai proprio amicizia, tu ami quelli che non amano Dio e questo non ti ha portato nulla di buono, non ti ha aiutato. A volte le cattive compagnie possono essere di tipo ripeto non soltanto sentimentale ma di tipo amicale ma possono anche essere di tipo ambientale. non per forza ci deve essere un legame particolare a volte trovarci in ambienti e in posti dove non dovremmo trovarci. Questo non ci aiuta molte volte. Pensiamo a Pietro che si troverà presso un fuoco estraneo vi ricordate? Mentre Gesù sta entrando lì nel Sinedrio per essere giudicato dal Sinedrio Pietro che inizialmente è entusiasta insomma perché vuole mostrare ha detto a Gesù se gli altri ti abbandoneranno io non ti lascerò mai. L'aveva appena detto e con quella determinazione mentre gli altri se ne erano andati se ne erano andati gli altri era rimasto soltanto Pietro e Giovanni Giovanni che entra un po' dentro là dove c'era appunto siccome era amico conosceva insomma anche quel tempo essere amici degli amici serviva entra dentro e Pietro rimane rimane fuori però Pietro fino a quel momento va dimostrato che lui era rimasto con Gesù ma si ferma lì presso quel fuoco dove ci sono delle persone che chiacchierano che parlano parlano di quello che sta accadendo lì dentro e forse ci sono delle critiche forse ci sono delle frasi anche poco rispettose riguardo a Gesù e a un certo punto una gli dice una che stava lì dice ma anche tu sei uno di quelli e lui dice no 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 non lo sono ma un altro ma come ti ho visto io ti ho visto che stavi con loro ti ho visto anche con Gesù e Pietro per la seconda volta no 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 non ci sono stato e un altro ancora in casa no io ti ho visto e a un certo punto dice la scrittura che lui cominciò a imprecare rinnegando che era stato con Gesù che cosa era cambiato o si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato non era il posto dato per lui cattive compagnie corrompono i buoni costumi possono essere di tipo ambientale anche le cattive compagnie Dio ci aiuti Amen Dio ci aiuti sentimentali possono essere le cattive compagnie possono essere di tipo amicale ma anche ambientale ma le cattive compagnie possono essere anche di tipo spirituale di tipo ecclesiastico anche Amen dice l'Apostolo Paolo non vi ho detto di separarvi dai fornicatori di questo mondo perché dice Paolo dovremmo uscire dal mondo Amén vi ho detto che di separarvi da chi vi ho scritto nella mia lettera capitolo 5 di Primo Corinzi verso 9 vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori non del tutto però con i fornicatori di questo mondo Paolo dice siamo nel mondo e forza abbiamo contatti e relazioni anche di lavoro anche di vicinanza di casa conoscenze con gli uomini di questo mondo importante dice sempre l'Apostolo capitolo 5 di non essere loro compagni un'altra cosa ma vi ho detto di non mischiarvi con i fornicatori non del tutto però con i fornicatori di questo mondo o con gli avari e i ladri o con gli idolatri perché altrimenti dovreste uscire dal mondo ma ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi chiamandosi fratello sia un fornicatore un avaro un idolatra un oltraggiatore un ubriacone un ladro con quelli non dovete neppure mangiare perché le cattive compagnie corrompono i buoni costumi possiamo dire amén ma poi Dio possono essere di tanti tipi le cattive compagnie di tipo sentimentale di tipo amicale di tipo ambientale ma anche di tipo spirituale ecclesiastico ma ancora leggiamo ciò che dice l'apostolo in Efesini al capitolo 5 quando parla appunto di quelli che sono ribelli ribelli e chiaramente loro condottano l'onora del Signore come si addice ai santi capitolo 5 verso 3 come si addice ai santi né fornicazione né alcuna impurità né avarizia sia neppure nominata tra di voi né oscenità né parole sciocche né parole sciocche o volgari che sono cose sconvenienti ma piuttosto abbondi il ringraziamento perché sappiatelo bene nessun fornicatore o impuro o avaro che è un'idolatra ha eredità nel regno di Cristo e di Dio nessuno vi seduca con vani ragionamenti fratelli e sorelle fratelli e sorelle il Signore a volte noi cerchiamo di farlo scendere al nostro livello ma il Signore non scenderà mai al nostro livello nel senso si egli va verso le nostre insufficienze ma egli è santo siamo noi che dobbiamo elevarci ecco perché ci ha salvato per tirarci fuori da quella condizione per elevarci per porre i nostri piedi sulla roccia siamo noi che dobbiamo santificarci e a volte la santificazione richiede impegno richiede separazione richiede incisione e allora questo forse a volte non piace allora visto che io non posso salire non voglio salire faccio scendere il Signore ma Dio non scende perché la sua valora rimane stabile ieri oggi e in eterna non vi ingannate né nessuno vi seduca con bene ragionamenti infatti per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli non siate dunque loro compagni perché in passato eravate tenebre ma ora siete luce nel Signore comportatevi come figliuoli di luce e ancora Paolo scrivendo la sua seconda epistola quando parla anche dei disordinati eh dice così l'apostolo al capitolo 3 della seconda epistola fratelli verso 6 fratelli vi ordiniamo non è vi do un consiglio fate come vi credete a vostra discrezione fratelli vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi le cattive compagnie corrompono i buoni costumi il problema dottrinale e d'incadulità di Corinto era questo le cattive compagnie l'apostolo Pietro parla di macchie nelle vostre agapi no? di alcuni che in qualche modo anche con il loro comportamento seducevano anche i semplici che erano da pochi convertiti tutto questo appunto ci parla di diversi tipi di cattive compagnie allora innanzitutto per evitare le cattive compagnie devo evitare anche diciamo le situazioni o gli ambienti dove le cattive compagnie è più facile trovarli se cerchiamo troppo il mondo se ci leghiamo troppo con il mondo è più facile che lì imbattiamo in cattive compagnie cioè la percentuale di probabilità è più alta giusto? ora faccio un esempio il tumore ai polmoni può venire a tutti ma è più facile che venga a chi fuma cioè si alza la percentuale quindi se io frequento e in qualche modo cerco amicizie di questo mondo frequento ambienti situazioni circostanze dove in qualche modo un credente non dovrebbe proprio trovarsi e cercare è chiaro che è più facile che io lì mi imbatta in cattive compagnie che corrompono i buoni costumi allora innanzitutto cerco di evitare tutto quello che in qualche modo potrebbe agevolare alle cattive compagnie di in qualche modo trovarsi nella mia vita e allora vogliamo pregare ecco perché dice Paolo siate sobri siate sobri e poi dice per davvero abbiamo letto vero? siate sobri per davvero signore questa sera veramente dammi sapienza dammi intelligenza spirituale lo vogliamo? se qualcuno non ne ha bisogno io ti benedica fatelo sorella ma io ne ho bisogno intelligenza spirituale sapienza spirituale è anche vero fratelli che a volte le cattive compagnie come abbiamo visto si possono trovare anche negli ambienti dove invece dovrebbe essere eccezione però è vero che il cuore solo il Signore lo conosce molte volte si sono rivelate dopo cattive compagnie perché l'apparenza ecco perché dice sempre Gesù non giudicate dell'apparenza ma giudicate con giusto giudizio ecco perché questa sera da un lato prendo io l'impegno da quale parte voglio stare a me scelgo la parte questa sera dove è più facile che non si trovino cattive compagnie allora innanzitutto come dicevo prima per evitare le cattive compagnie scelgo prima di tutto la compagnia di Dio perché se cammino col Signore io credo questa sera che Dio mi guiderà che Dio mi aiuterà che Dio mi libererà lo crediamo questa sera lo credi questa sera allora scelgo la compagnia di Dio scelgo le cose i luoghi le persone che sono nella volontà di Dio e poi Signore ti chiedo dammi tu discenimento spirituale lo vogliamo perché in tempi come questi Signore voglio che il mio cuore abbiamo sentito custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa perché da esso provengono le sorgenti della vita Signore voglio evitare ogni cattiva compagnia che sia di tipo sentimentale che sia di tipo amicale che sia di tipo ambientale o anche spirituale Signore quello che non vedo io apri tu i miei occhi perché io scelgo questa sera la parte che appartiene a te scelgo di stare con te Signore scelgo le cose che appartengono a te Signore scelgo le cose che sono secondo la tua volontà perché so che questo è per il mio bene voglio evitare le cattive compagnie Signore e laddove non ci vedo io Signore apri tu i miei occhi e fammi vedere tu perché io voglio custodire il mio cuore sano integro e voglio consacrarlo a te tutti i giorni della mia vita alziamoci in piedi gloria a te Signore alleluia gloria a te Gesù Gesù grazie a te